ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi parleremo di un coltello della colstil il tie light 4 ragazzi un coltello che si rifà molto come linea i coltelli anni 50 un coltello espressamente da difesa personale andiamo a vederlo insieme eccolo qui ragazzi tie light della colstil un coltello che rifà le sue forme ai vecchi stiletti italiani anni 50 ragazzi eccolo qua bellissimo questo coltello un coltello pesante ragazzi un coltello votato unicamente alla difesa personale o al combat ragazzi lo vedo bene come secondo combat leggero da portarsi nell'equipaggiamento il coltello nella sua interezza misura 22.5 centimetri ed ha questa bellissima lama ragazzi bellissima con unico fine la penetrazione ragazzi un altissimo potere di penetrazione per la forma di questa lama di 10.2 centimetri in house 8a ragazzi house 8a acciaio simile al 440c come ritenzione del filo e resistenza all'ossidazione ragazzi una lama molto stretta una lama proprio per il combat con un altissimo potere di penetrazione ovvio la lama taglia ci potete tagliare quello che volete diciamo che io ci ho provato a tagliare il salamino ragazzi non è così comoda la lama veramente poco acciaio veramente poco larga quindi fate taglia tutto ma ovviamente c'è molto di meglio ragazzi insomma un coltello che come unica applicazione come dicevamo alla difesa personale ragazzi il coltello è manicato con cartelle pesanti in acciaio ragazzi rivestite con dello zitel con queste guancette in zitel forate ragazzi una cosa che vi posso dire è che questi forellini anche se sono veramente bellissimi ragazzi da vedere ovviamente danno un design completamente diverso a questo coltello piuttosto che il manico pieno fanno entrare un pochino di sporcizia quindi o smontate le cartelle in zitel ogni tanto gli date una pulita alle cartelle in acciaio ragazzi oppure con un piccolo cotton fioc dovete andarle a pulire ragazzi perché comunque lì dentro lo sporco un pochino si accumula ragazzi clip come potete vedere che si può mettere solamente nella parte bassa del coltello e soprattutto solamente per destrorsi niente per macci niente per mancini come il thumbstone che è presente solamente nella parte per destrorsi del coltello thumbstone che come vedete è praticamente inutile ragazzi il coltello ha diverse apertura ma il thumbstone ragazzi è veramente inutile un punto debole di questo coltello sono proprio le aperture ragazzi anche andando a regolare il perno lama l'apertura risulta piuttosto difficoltosa il modo che ho trovato per aprirlo io proprio usare questa pinna che poi vedremo nel video va ad imitare un po l'apertura emerson che praticamente si aggancia alla tasca del pantalone quando lo stretto dalla tasca e apre la lama ragazzi poi lo andiamo a vedere ve lo metto a fine video io uso questa pinna per aprire il coltello eccolo lì ripeto thumbstone abbastanza inutile ragazzi è veramente durissimo da aprire come potete vedere perché spunta veramente pochissimo dallo zittel ragazzi come potete vedere quindi dovete proprio scavarci col pollice per andare a prenderlo l'altra apertura sarebbe un flipper eccolo lì ok flipper posteriore però spunta veramente pochissimo quindi come vedete senza il colpo di polso difficilmente il coltello si apre ragazzi quindi secondo me l'apertura che per ora funziona meglio quella distrazione dalla tasca oppure proprio prendere questa pinna e aprire il coltello da lì è comodissimo comunque ragazzi il coltello ragazzi è un bel coltello a me piace molto è costruito molto molto bene è un coltello ripeto votato al combat ci potete fare poche altre cose con questo coltello ragazzi ovviamente come ho detto prima taglia però è un coltello che secondo me per usi di lavoro usi nel bosco usi solidi un coltello inteso strumento da lavoro non c'è azzecca proprio nulla trovate sicuramente di meglio ragazzi coltello con un blocco lama liner lock come potete vedere rinforzato ragazzi vedete ve lo faccio vedere che scatta adesso eccolo lì eccolo lì un grosso liner rinforzato è il liner che praticamente è ripiegato su se stesso e oltre a creare questo piccolo decoro diciamo va anche ad aumentare lo spessore del liner eccolo lì ragazzi un coltello dal peso complessivo di 113 grammi un coltello portatile ragazzi come equipaggiamento non è assolutamente male una cosa che non v'ho detto è che hanno fatto le prove di ta di resistenza del blocco lama in col steel e la lama tiene fino a 130 libre prima di spaccare il blocco lama e cedere ragazzi diciamo che il coltello inizia già a piegarsi dalle il blocco lama inizia già a cedere dalle 100 libre ragazzi coltello con uno spaziatore posteriore come vedete sempre in zitel coltello che ragazzi se cercate un coltello per la difesa personale per quanto in italia non sia assolutamente consentito ragazzi portarsi un coltello un coltello per il combat leggero questa è una soluzione che si rifà al modelli anni 50 quindi mi piace tantissimo ragazzi che posso consigliarvi ragazzi vi faccio vedere come funziona il metodo ad estrazione dalla tasca tipo il metodo emerson ragazzi coltello in tasca coltello aperto come vedete il movimento è abbastanza legnoso ragazzi non è bello fluido come l'emerson e soprattutto con tutta questa zigrinatura sull'onda che si impiglia nella tasca ragazzi se non avete dei pantaloni pesanti restate in mutande ragazzi comunque l'apertura funziona come potete vedere altra apertura del coltello come abbiamo visto io lo apro sempre usando la stessa pinna dei pantaloni eccolo qua ha anche l'apertura a flipper ragazzi ma l'apertura a thumbstone io la capisco veramente poco perché il thumbstone per me rimane un mistero su questo coltello andiamo alle conclusioni finali tie light della cold steel ragazzi un coltello che a me piace tantissimo questa forma a stiletto che richiama gli stiletti italiani anni 50 mi piace veramente tantissimo coltello con altissimo potere di penetrazione ragazzi un coltello combat un coltello da difesa un coltello che ha saputo conquistarmi ragazzi dal tie light della coltello dal parchetto del tagliagole è tutto buona giornata e ciao ciao